Ed ora veniamo all'emergenza umanitaria legata alla guerra. Il numero dei profughi accolti in Piemonte potrebbe ancora aumentare. Non basta però la disponibilità delle famiglie e servirà un vero e proprio coordinamento. Marzia De Giulli ne ha parlato con il prefetto di Torino. Siamo venuti con padroni di casa che lui doveva dichiarare che non è ospitalità. La signora Anna vive da tempo nel torinese. Una famiglia si è messa a disposizione per ospitare le sue figlie con due bambini in fuga dalla guerra. All'ufficio immigrazione di Corso Verona si contano sulle dita di una mano gli ucraini in coda. Il segno conferma il prefetto di Torino che il Piemonte per ora è fuori dai grandi flussi. La buona notizia è che l'Italia in questa emergenza concede la protezione internazionale automaticamente. Basta presentarsi al più vicino presidio di polizia. Superati i 90 giorni hanno bisogno di essere muniti di un permesso di soggiorno che viene rilasciato dalle questure senza neppure la richiesta dell'asilo politico. Quindi se io sono ucraina mi presento in un presidio di polizia e do i miei documenti automaticamente mi viene poi riconosciuto il diritto di rimanere qui. Sì, viene avviata la procedura per rilascio poi del titolo di soggiorno. Potrebbero essere di sei mesi, potrebbero essere di un anno. Questo dipenderà dalle disposizioni che arriveranno alle questure dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Per ospitare i profughi sono a disposizione diversi centri di accoglienza, una rete di alberghi convenzionati con la Regione e poi tanti privati. 175 gli ucraini accolti finora nelle strutture del Torinese ma ci si prepara numeri più grandi. Grosse problematiche non se ne sono verificate, però chiaramente noi ci stiamo attrezzando e lavoriamo in stretto raccordo con i comuni, con la Regione, perché nella ipotesi in cui i numeri dovessero crescere. La Prefettura ha chiesto ai sindaci di comunicare entro domani le presenze nei loro territori. Si è conclusa intanto la manifestazione di interesse per l'accoglienza. Sono arrivate oltre 30 proposte per un numero complessivo di 1146 posti.